Sui più comuni social network si fingevano minorenni con nickname adolescenziali per farsi mandare da ragazzini e ragazzine fotocompromettenti. La polizia postale di Venezia ha stroncato un traffico internazionale di materiale pedopornografico. Stop Fake, questo è il nome dell'operazione. Stop all'operato di 53 orchi in tutto il mondo. 27 gli italiani coinvolti e denunciati, migliaia le foto sequestrate. Le indagini sono partite dall'analisi del PC di un cuoco veneziano che ha portato i cyber poliziotti anche a casa di due padovani, un veronese e un trevigiano. Quello che è venuto fuori nell'indagine è che questi soggetti tra l'altro si spacciavano per minorenni e qualche volta incontravano effettivamente i minorenni ma qualche volta si imbattevano in, perdonatemi la parola, dei colleghi che avevano lo stesso loro tipo di attività, di modalità per avere immagini, diciamo così, in qualche modo fresche che vanno al di là di quello che è il normale circuito della pedopornografia, immagini di coetanei. Emersa una rete internazionale con scambi continui. Abbiamo trovato anche soggetti che vivevano in paesi come Russia, ma anche Stati Uniti d'America, Argentina, Polonia e quant'altro. Ora le indagini proseguiranno. L'obiettivo della Polizia Postale è verificare che i protagonisti di questa vicenda non si siano spinti oltre lo scambio online di foto e video. Quello che adesso dobbiamo fare è vedere quello che ci verrà fuori dall'ulteriore analisi che viene fatta da questo materiale sequestrato e ci auguriamo di trovare solo e esclusivamente materiale pedopornografico e non prove di abusi su minori, perché questo naturalmente andrebbe a creare un profilo di pericolo estremamente più ampio.